Ci siamo quasi, manca pochissimo, la serie D aspetta il Gela, aspetta una grande squadra con un passato glorioso che ripartendo dai campi impolverati della Sicilia ha saputo riappropriarsi dalla scena. Si è partiti dalle categorie inferiori, giocando in paesi che neanche il navigatore satellitare installato sulle auto sono riusciti a trovare. Ma è proprio da quei paesini che il Gela ha costruito piano piano la sua scalata. Adesso in eccellenza, ma tra poco si ritroverà nel massimo campionato dilettantistico. La squadra biancazzurra, che nelle ultime cinque partite ha conquistato altrettante vittorie, comanda la gradutoria ed ha un vantaggio di cinque lunghezze sulla sua diretta inseguitrice, la San Cataldese. Bisogna riconoscere i meriti alla formazione di Marce No, che non ha mai mollato, ma sulla sua strada ha trovato un Gela di un altro pianeta. E se proprio il Gela è in cima, un motivo ci sarà. Perché i biancazzurri, da quando hanno conquistato la vetta dopo una rincorsa senza precedenti, non hanno mai mollato. Anzi, se ce ne fosse bisogno, hanno dimostrato una compattezza che non ha eguali. Il team gelese riduce da ben 18 risultati utili consecutivi. Se non è un record, poco ci manca. In tempi non sospetti, ad inizio campionato, gli intenditori di calcio, lo avevano detto, e il Gela la squadra da battere. Dopo un periodo di crisi iniziale, con l'esonero del tecnico Simone Pardo ed il successivo arrivo di Bruccoleri, le cose sono cambiate decisamente. C'è stata qualche battuta a vuoto, se vogliamo fisiologica, ma i biancazzurri si sono immediatamente ripresi. E le avversarie di turno hanno dovuto alzare bandiera bianca. Adesso il campionato serverà un turno di riposo per le festività pasquali. Si riprenderà domenica 3 aprile. Ed in quell'occasione, Nassi e compagni giocheranno in casa contro il Castelbuono. La San Cataldese, invece, sarà impegnata in trasferta in casa della Derelitta Libertas. Se il Gela dovesse vincere e i Nisseni dovessero pareggiare, sarebbe promozione diretta. Aspettiamo ancora un po' e poi si potrà brindare.